good morning guys in questo periodo questo è il massimo del giro che riesco a fare due metri dal garage a qua niente di più io resto a casa oggi parliamo di tutti quei controlli che io effettuo su noise mensilmente giusto perché voglio stare tranquillo con ogni giro che io faccio è sempre meglio non avere sorprese matteo canvas non ce la farai a farmi bere una birra matteo ragazzi è un iscritto al mio gruppo telegram noise 883 con motociclisti di tutti i tipi possibili da tutta quanta italia è il bello è questo perché confrontarsi con motociclisti anche di altre tipologie ci apre la mente e ci fa conoscere cose diverse qui sotto in descrizione il link per poter entrare direttamente nel gruppo noise 883 su telegram direi che è finito ora però direi di passare all'atto pratico per parlare di questi controlli che io effettuo per dare un filo logico a tutto quanto il discorso direi di partire dall'anteriore uno dei controlli che effettuo sempre è quello sul faro cioè quindi vedere se tutte quanti le luci funzionano quindi io metto in moto luce di luce luce di posizione è anabagliante luce abbagliante questo è un controllo che fondamentalmente si vede ogni giorno mentre si guida la moto io guidando molto spesso anche di notte me ne accorgo più facilmente però visto che ora sto facendo il controllo generale ho messo anche questo controllo giusto per farvelo vedere io monto la lampadina full led non il faro ma la lampadina qui sotto il link in descrizione del video recensione e lei ha una durata molto più lunga rispetto a quella alogena qui sotto passiamo alla pinza freno ora non vi faccio vedere lo smontaggio di entrambe le pinze dei freni perché uscirà proprio un video dedicato sullo smontaggio e quindi sul controllo della pastiglia freno perché è un lavoro che richiede un pochino più di tempo e quindi mi sembra giusto dedicarci un video apposta sempre sull'anteriore vado a controllare quello che è l'usura dello pneumatico cosa importantissima da utilizzare monetina da 2 euro dico fondamentale perché io non ho il calibro che si utilizza quindi utilizzo lei che è un sistema ovviamente non preciso però è quello più diffuso perché ci dà un'idea dello stato di usura quindi andando a posizionare la monetina in mezzo la stella non deve emergere sto vedendo che il mio pneumatico anteriore è un pochino usurato infatti questo pneumatico ha già praticamente quasi 10.000 km per farvi vedere la differenza ragazzi questa è l'usura in mezzo fondamentalmente è l'utilizzo che ne faccio di più io perché non piego se vado sulla spalla vediamo che la parte argentata scompare interamente praticamente ragazzi ancora non sono da cambiare vi dico che con l'ultimo set di pneumatici ci ho fatto 22.000 km per quanto riguarda l'anteriore cosa che potevo fare prima perché c'ero controllare le frecce ora mi direte come fai a vederlo riesco a vedere che si illuminano le frecce quindi ce la faccio sinistra destra visto che sto controllando le frecce e le frecce a questo punto anche il freno lo stop controlla anche quelle posteriori quindi facciamo subito questo lavoro sinistra funziona destra perfetta freno sulla pinza perfetto freno sul pedale perfetto quindi le luci funzionano benissimo ora continuiamo con i controlli per quanto riguarda questa parte mi concentro sul filtro il livello dell'olio e la fluidità visto che ci sono dei comandi per il filtro io una volta al mese effetto la pulizia ragazzi deve essere un filtro aperto e lavabile vi dico già che uscirà un video dedicato sul lavaggio del filtro perché un lavoro che richiede un pochino più di tempo e quindi ho piacere di farvelo vedere nel dettaglio ora guardiamo quello che è il livello dell'olio quindi pigio come vediamo noi abbiamo quello che è un minimo e un massimo quindi ora mi tengo la moto dritta lo vado a rimettere dentro tiro su già vedo che siamo messi molto bene il livello dell'olio come potete vedere è pieno ora vado a controllare il movimento e la fluidità dei comandi è molto fluido il movimento non ci sono problemi questo è un controllo che faccio mensilmente ma potrei farlo anche una volta ogni sei mesi perché una spruzzata dei vd va avanti per tantissimo ma tantissimo tantissimo tempo l'ultimo controllo su questa parte che io vado a effettuare è sulla cinghia lei è garantita per 80.000 chilometri vedete che qui sopra non ho più la protezione quindi è più esposta all'usura e a sassi che posso andarla danneggiare nel tempo semplicemente cosa faccio io la tendo se scende di massimo un centimetro indicativamente è perfetta sul posteriore faccio due controlli oltre alle frecce che avete già visto sempre il pneumatico copro tutta quanta quella che è la parte argentata e controllo la luce della targa ok si la targa è laterale a sinistra ed è illegale quindi in questo caso funziona perfetto e qua ho un paio di controlli in più che effettuo prima cosa che vado a vedere come ho fatto da quell'altra parte sono i comandi avanzati quindi questo è una cosa a posto un controllo che faccio è sulla batteria apro il fianchetto se avete visto il video faccio tagliando la mia Harley se non avete visto qui sopra il link in descrizione mi si sono allentati questi e clacson e frecce non mi funzionavano bene vado a controllare che siano ben stretti questo probabilmente è un controllo superfluo più legato a un mio timore più che a una reale necessità questo davanti ragazzi è veramente duro e anche quello posteriore è bello duro l'ultimo controllo che effettuo in teoria lo faccio ogni volta che prendo la moto però ci do un'occhiata in più quando faccio tutti questi controlli è se ho qualche perdita la moto è completamente asciutta sotto quindi non ho nessunissima perdita come avete visto i controlli che faccio sono molto veloci e semplici da fare a parte lo smontaggio di una pinza che è una cosa semplicissima da fare e che richiede giusto una mezz'oretta di tempo e la stessa cosa vale per il filtro che vi richiede una mezz'oretta se fate tutto quanto insieme diciamo che con un'oretta bene o male ve la cavate molto velocemente spero che questo video possa essere stato di aiuto a qualcuno di voi iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi